Nona giornata del campionato femminile di Serie C FIPA v Lombardia. La Promo Bowl Sanitars esce sconfitta dalla gara contro le prime in classifica della gruppa ma brembate di sopra. Le fleresi vendono cara la pelle giocando una buona pallavolo e spendendo le proprie energie in una gara combattuta che però non è risultata in una vittoria contro la squadra che sta dominando il campionato. Fin dal primo set Taramelli è costretto a rinunciare a Tomasi, ferma precauzionalmente ai box per un leggero mal di schiena e schiera in campo Papa con opposto Giacomini, Barossi e Basalari al centro, Marinoni e Emiliojkovic come laterali e Bertoletti libero. Le ragazze entrano in campo molto cariche e il set è combattuto punto su punto. Le squadre in campo si alternano la testa della gara con la Promo Bowl che esprime una buonissima pallavolo. Entrambi i tecnici provano a sbloccare la situazione ma il parziale prosegue in parità finché brembate non si impone sulle bresciane e chiude 21-25. Nel secondo set le tigri partono subito in difficoltà. Taramelli chiede il timeout sul 2-6 e prova a giocarsi il doppio cambio sul 3-10. Le ragazze della Promo Bowl non reagiscono e subiscono l'impeto delle esperte bergamasche che terminano il set sul 14-25. Il terzo set inizia con Di Giulio al palleggio, Emiliojkovic come opposto, Turina e Marinoni come lati e Basalari e Piantoni al centro con Bertoletti opposto. Le fleresi partono in svantaggio portandosi sul 5-10. Taramelli innesta il doppio cambio nella formazione in campo con Papa e Giacomini e la squadra riesce a risalire fino al 12 pari. La gara prosegue punto a punto ma le ragazze della Promo Bowl non possono che soccombere contro l'esperienza delle avversarie con la gara che si conclude sul 24-26 delle ospiti. Le ragazze della Promo Bowl nonostante la sconfitta sono riuscite a tenere in piedi una partita punto su punto mantenendo una gara in bilico contro le prime in classifica. Una gara complicata, pungente e combattuta che ha esaltato le fleresi facendo loro esprimere tra le migliori giocate del campionato che però non sono bastate tra le mura amiche contro la Brembate, dominatrice della stagione di Serie C di quest'anno.